Dalla musica al teatro al festival dei due mondi di Spoleto, grande successo per Odissea andata e ritorno che era atteso adattamento teatrale del poema omerico realizzato da Emma Dante e noi ve ne mostriamo un breve strato. Dalla musica al teatro al festival dei due mondi di Spoleto, grande successo per Odissea andata e ritorno al festival dei due mondi di Spoleto, grande successo per Odissea andata e ritorno al festival dei due mondi di Spoleto.